Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come GF VIP, sapete quanto sborsa Mediaset per il vincitore del famoso reality di Cinecittà? Una barca di soldi. Ecco quanto ha portato a casa Jessica Selassie. Jessica il GF VIP Curiosi di sapere quanto sborsa Mediaset per il vincitore del grande fratello VIP? Parliamo di cifre davvero astronomiche Jessica ha guadagnato un botto di soldi.GF VIP, si spengono le luci del bunker di Cinecittà È ufficialmente finita, il reality, tra i più lunghi della storia, ieri ha chiuso le porte e spento le luci e le telecamere che per sei mesi hanno mostrato la vita H24 dei vipponi che hanno divertito, incuriosito e rallegrato le giornate dei telespettatori Signorini.Alfonso Signorini aveva promesso che la sesta edizione del grande fratello sarebbe stata scoppiettante e ricca di colpi di scena e come sempre, ha mantenuto la parola L'ultima puntata che si è conclusa con la vittoria della principessa etiope Jessica Selassie, ha lasciato tutti a bocca aperta Il popolo del web ha scelto il suo vincitore, una giovane che in questi mesi ha mostrato solo il meglio di sé distinguendosi da tutti gli altri Anche per la stessa Selassie la vittoria arriva in maniera del tutto inaspettata GF VIP. Jessica ha battuto persino Lulu che era stata data dagli stessi coinquilini come probabile vincitrice Ad ogni modo, i telespettatori si sono posti una domanda, ma quanto guadagna il vincitore del GF? Ebbene, vi annunciamo che Mediaset sborsa una valanga di soldi per chi riesce a vincere il famoso reality Jessica Selassie.Quanto sborsa Mediaset per il vincitore del reality? Ebbene sì, siamo giunti alla fine. Alfonso Signorini, ieri, con grande emozione, dopo la proclamazione della vincitrice Jessica Selassie, ha salutato i telespettatori con la promessa di ritornare a settembre con un'altra straordinaria edizione del reality più spiato d'Italia Questa appena conclusa si è stata davvero un grande successo e i dati di ascolto lo hanno confermato La Coppa dei Campioni dunque è stata sollevata dalla principessa Jessica Selassie che ha portato a casa il cospicuo Montepremi finale A proposito di Montepremi finale, sapete quanto sborsa Mediaset per il vincitore del grande fratello? Non lo immaginereste mai L'azienda, che consente la messa in onda del famoso reality di Cinecittà, sgancia per il vincitore del GF Ben 100 000 euro in gettoni d'oro. Sì, avete capito bene. Questa è la cifra per il vippone vincitore Insomma, Jessica, oltre al cachet di 5.000 euro appuntata, deve aggiungere al patrimonio guadagnato fino ad ora, anche questa cospicua somma di denaro Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video